Mamma, papà, sono contenti di essere a casa. Già, sì. Vabbè, anche noi, tutto sommato, ci siete anche mancati. Eh già. Michael, Pamela, ma ieri il nonno ci ha fatto un regalino. È vero, ci hai venuto lo slime di Josh Slime Company. È vero, andiamo a provarlo insieme. Sì, dai, dai, andiamo. Va bene, bambini, io e la mamma andiamo a sistemare alcune cosette. Voi divertitevi, magari mettetevi qua fuori. Sì, vi porto un tavolo in più, così avete più spazio. Va bene, buon divertimento. Che bello, senti, che morbido, ce n'è tantissimo. Profuma di cocco, è buonissimo. Grazie, nonnino, e grazie Josh Slime. Sei il più bravo di tutti i slimisti di sempre. Sì, sì. Sapete cosa sarebbe bello? No. Provate a immaginarvi se tutti e tre facessimo il bagno dentro lo slime. Sarebbe bellissimo. Sì. Sarebbe più bel bagno di sempre. Sì. 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 Eeezie! Bella, si galleggia senso fatica. È vero! Uauh, che bello! Ah, Josh Slime, ci fai sognare! Ma la mamma e papà, che figli hanno fatto? Ehi, ma guardate, cosa è arrivato? Un papacallino? Amici, amici, io so tante cose! Parla! Ma cosa dice? I vostri genitori? Stanno confabulando! Sono dentro e stanno confabulando! So tante cose! E cosa sai? Andate dentro! Andiamo, andiamo! Mamma, papà! Mamma! Papà! Non ci sono qui! Guardate bene! Andate su! Da questa parte! Da questa parte di Corete! Oh, ma cosa succede? Ma questo uccellino! Che strano! Eccoli! Ne abbiamo trovati! Guardate! Ma cosa stanno facendo? Eh, caro! Sembra bella... Sì, resistente! Sì, è anche molto, molto carina! Papà, mamma! Ma che cos'è? Una culla! Oh, ciao! George, guarda! Ci hanno trovato! E' giunto il momento di parlare! E' gioco! Parlare? Di cosa? Già, di cosa? Ciao, amici! Iscrivetevi al nostro canale Così potete vederci ancora E vedere nuove puntate! Ci aspettiamo! Ciao! Ciao!